Una grande prestazione dopo un abbio non facile? Sì, diciamo che non siamo partite benissimo e loro stavano giocando di nuovo una grande partita. Siamo state secondo me molto brave a rimanere lì con la testa e quindi a macinare gioco sempre di più il nostro gioco e a tenere loro sotto ovviamente a portarci a casa questo risultato che era l'unico possibile per noi ovviamente. Secondo e terzo set mi è sembrato in scioltezza da parte vostra. Il quarto, c'è stato un momento in cui forse Piacenza stava per prendere il sopravvento, poi siete state brave a rientrare? Sì, beh in scioltezza no, però ti ripeto siamo state in scioltezza con questa squadra qui impossibile. Siamo state brave, abbiamo giocato due buonissimi set, il quarto è stato più combattuto, anche lì molto brave nel finale quando eravamo punto a punto, quando c'erano anche sopra loro a stare lì. Noi a volte, anzi a volte, spesso siamo brave a rimanere lì anche nei momenti difficili. La parola double è impronunciabile, è un tabù? Double? La Coppa Italia l'avete già vinta quindi... No, adesso non ci penso, double, perché ancora siamo in semifinale, quindi ora che arriviamo in finale... No, domenica partiamo 0-0, quindi è una partita secca, vediamo se riusciamo ad andare in finale, ma la strada è lunghissima, quindi pensiamo una partita alla volta. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie.